Sono 167 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo. Non erano così tanti da primavera, esattamente dal 7 maggio scorso. Corrisponde al 5,6% dei 2.981 tamponi molecolari processati. L'incremento più consistente nell'Aquilano, con 66 nuovi casi, seguono il Terramano, il Chietino e il Pescarese, con rispettivamente 45, 33 e 15 casi. Cresce l'incidenza settimanale media del virus. Negli ultimi sette giorni ha raggiunto quota 51 ogni 100.000 abitanti, ma è al 77 solo nell'Aquilano. Superata la soglia di 50, l'Abruzzo sarebbe già in zona gialla, se il tasso d'occupazione negli ospedali superasse la soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per le aree mediche. I numeri però, seppur in crescita, sono ancora lontani dal limite stabilito dal Ministero, al 6% per le rianimazioni, dove sono ricoverate 74 persone, e al 5% per l'area medica, dove i pazienti sono 64. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.779, 122 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore inoltre 45 guariti e nessun decesso. Il virus accelera in tutta Italia. Il numero delle regioni che la cabina di regia reputa rischio moderato, di cui l'Abruzzo già faceva parte, cresce da 4 a 18, mentre l'RT medio sui casi sintomatici è pari a 0,96. In aumento è appena al di sotto della soglia epidemica fissata a 1.